E' stato rinviato il giudizio dal gruppo di potenza Don Antonio Calderaro, il parroco cinquantenne di San Costantino di Rivello, arrestato nell'aprile 2015 con l'accusa di aver fatto sesso con un minorenne. Assieme a lui dovranno affrontare il processo anche altre tre persone, Rizvan Muhammad, Gian Carmelo Varasano e Vincenzo Casanova, e la prima udienza si svolgerà il prossimo 13 luglio a Matera. Per altre quattro persone, invece, giudicate con il rito abbreviato, sono state disposte pene comprese tra i due anni e due mesi e due anni e otto mesi e sono state riconosciute le attenuanti generiche. Le indagini iniziarono nel 2013 a Nova Siri, nel Materano, dopo la denuncia della sorella di un quattordicenne preoccupata per gli strani appuntamenti presi da questi con persone adulte conosciute su internet. Il ragazzino venne poi sentito e con l'aiuto di una psicologa raccontò di aver conosciuto su Facebook diversi adulti e di aver consumato dietro pagamento dei rapporti sessuali. Gli incontri sarebbero avvenuti nei pressi dei lidi di Rotondella e Nova Siri. Otto le persone coinvolte e sconosciute tra di loro, tra cui Don Tonino, parroco della chiesa di San Giuseppe a San Costantino di Rivello, accusato di aver adescato e poi di essersi intrattenuto sessualmente con il ragazzino dietro pagamento. Per tali fatti venne sospeso a Divinis ed esonerato dalle funzioni e da ogni attività sacerdotale dall'allora vescovo della diocesi di Tursi-Lago Negro, Monsignor Nolè. Ora il processo dovrà accertare le eventuali responsabilità.